direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi giovedì 22 giugno il jackpot ha raggiunto la cifra di 60 milioni 598 mila 914 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo al via l'estrazione del concorso numero 74 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero giolli tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 71 siamo al secondo numero con super enalotto si inizia a vincere il secondo numero estratto è il numero 18 il terzo numero estratto è il numero 42 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 9 adesso scopriamo il quinto numero che apro le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 24 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare l'assessina vincente il sesto numero estratto è il numero 59 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri dell'assessina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 69 controlliamo insieme l'assessina vincente in ordine di estrazione è il numero jolly 71 18 42 9 24 59 il numero jolly è il numero 69 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 e ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite supera una lotto fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? il numero superstar di questa sera è il numero 4 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 74 in ordine crescente 9 18 24 42 59 71 numero jolly 69 superstar 4 e l'estrazione di oggi giovedì 22 giugno termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 60 milioni 500 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 74 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del super analotto assegna 366 mila 41 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 60 milioni 500 mila euro sarà stato centrato il 6? questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 61 milioni 700 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6, nessun 5 più 1 i 5 sono 4 e vincono 40 mila 598 euro ciascuno i 4 sono 580 e vincono 294 euro ciascuno i 3 sono 20 mila 553 e vincono 24 euro ciascuno i 2 sono 313 mila 606 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 11.931 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna scopriamo adesso insieme vincite e premi super star nessun 5 stella i 4 stella sono 3 e vincono 29.451 euro ciascuno i 3 stella sono 108 e vincono 2448 euro ciascuno 100 euro vanno in 1516 2 stella 10 euro e 9.662 1 stella e 5 euro e 20.009 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi su Verona Lotto vi dà appuntamento a sabato 24 giugno e giocheremo per un jackpot di 61.700.000 euro arrivederci a